Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 2 del Mediterraneo, sino al 12 gennaio, carreggiata ridotta tra Eboli e Battipaglia verso Fisciano. Sulla strada statale 7 Appia, sino al 3 febbraio, senza unico alternato in località Venticano, in provincia di Avellino. Sulla strada statale 7 Offantina, per lavori al viadotto Monte Chiuppo, senza unico alternato tra Mano Calzati e Candida, in provincia di Avellino. Sulla strada statale 19 delle Calabrie, sino al 20 febbraio, dalle 7 alle 19, senza unico alternato in località Padula. Dalla redazione Muoversi, Valeria Baldanza. Grazie a tutti.